L'Italia conta il maggior numero di autovelox installati lungo le strade, con le ultime stime che registrano 11.130 apparecchie di rilevazione automatica della velocità lungo tutta la penisola, più di Gran Bretagna circa 7.700, Germania oltre 4.700 e Francia 3.780. Lo afferma il Kodakons che interviene sui sempre più frequenti casi di autovelox smantellati ad opera di ignoti, fenomeno che sta interessando diverse zone d'Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. E un nuovo abbattimento si registra per un impianto autovelox in Veneto. Il misterioso Fleximan ha colpito in provincia di Padova. In base ai dati ufficiali del Ministero dell'Interno, nel 2022 le principali 20 città italiane hanno incassato un totale di 75.891.968 euro, grazie alle sanzioni elevate tramite autovelox, con una crescita del più 61,7% rispetto ai 46.921.290 euro di proventi registrati dalle stesse amministrazioni comunali nel 2021. La città con i maggiori incassi di autovelox è Firenze, pari a 23,2 milioni di euro, seguita da Milano quasi 13 milioni, Genova 10,7 milioni e Roma 6,1 milioni. Non mancano però le sorprese. Se Napoli si ferma ad appena 18.700 euro di incassi nel 2022, i comuni della zona del Salento hanno ottenuto complessivamente circa 23 milioni di euro, grazie alle sanzioni elevate tramite gli autovelox.